Zona pedonale in centro storico ma senza il supporto dei parcheggi. Puntuale con l'arrivo dell'estate si riaccende il dibattito tra pro e contro il centro pedonale dell'Aquila e con l'entrata in vigore del provvedimento i commercianti dicono la loro. La ZTL è una cosa sicuramente ottima, tutte le città esistono queste zone di isole pedonali che funzionano, sono sicuramente belle. L'unica cosa è che bisogna creare logicamente dei parcheggi, cosa che assolutamente non esiste qui all'Aquila. Io mi ricordo che era un problema che aveva anche mio padre quando sto qui nello studio, si parlava sempre di isola pedonale e di zona pedonale ma è del problema dei parcheggi. Il problema dei parcheggi è rimasto, quindi io sono all'avviso che bisogna petonalizzare completamente la città ma bisogna dare la possibilità alle persone di arrivare, parcheggiare e girare. A volte qui sento persone che per arrivare in centro ci mettono anche mezz'ora per trovare un parcheggio e logicamente non mi sembra una cosa normale da città moderna, da città europea come vogliamo essere. Senza le macchine la gente gira più facilmente per la città e dà più possibilità di guardare le vetrine, di fermarsi a un bar, a un ristorante. L'unico problema è che essendo una città piccola bisogna creare anche i parcheggi. Sì, la proposta della ZTL potrebbe essere un problema per quanto riguarda soprattutto la nostra posizione dei nostri negozi perché diciamo al corso c'è sempre più movimento eccetera eccetera invece qui abbiamo questo problema adesso, vabbè problema tra virgolette dei lavori quindi non abbiamo più parcheggi e naturalmente ci crea dei disagi ecco.